Adesso parliamo invece del pegno. Il pegno era un contratto ed era anche un diritto comunque reale su cosa altrui. Un diritto reale su cosa altrui che, diciamo, di garanzia però, dove appunto, che ha la caratteristica, come tutti i diritti reali di garanzia, di, diciamo, essere subordinato a un'obbligazione comunque principale che lo giustificava, in particolare appunto a un diritto pertanto personale che se veniva meno, feceva venire meno anche lo stesso diritto reale appunto di garanzia. Nel senso che, ad esempio, se viene in adempimento rispetto al credito che giustifica questo diritto reale di garanzia, in pratica colui che aveva, diciamo, possesso sulla cosa data a pegno diventava proprietario. Quindi dal diritto reale su cosa altrui, in pratica si aveva una trasformazione dal diritto reale di scuola altrui al diritto reale di proprietà per il cosiddetto creditore pignolatizio. Quindi ciò si basava poi anche, principalmente un diritto reale di garanzia, ma si basava anche su contratto di pegno. Il contratto di pegno era un contratto reale, cioè quindi per stabilirlo, per, diciamo, ottenere questa situazione si passava, diciamo, da un accordo, comunque da un contratto delle parti, no? Quindi era un contratto cosiddetto reale perché si basava sulla consegna di una cosa. C'era quindi tradizio che però veniva offerta, non in semplice detenzione come poteva avvenire, ad esempio, nel caso del comodato o del deposito, e nemmeno in proprietà come nel caso del mutuo, ma veniva data, appunto, diciamo, al creditore, che quando si aveva un credito, insomma, o un debito ci si potrebbe accordare per creare, appunto, un diritto reale di garanzia su quel credito. Quindi il debitore, diciamo, per offrire una garanzia al creditore, faceva un contratto di pegno e gli dava, insomma, il suo cavallo. A questo punto cosa succedeva? Il cavallo, nel momento in cui veniva, diciamo, consegnato il cavallo al creditore, in pratica, e infatti, nell'ambito del contratto, diciamo che il creditore assume proprio la, diciamo, la denominazione di creditore pignoratizio. Viceversa, il debitore, quello che consegna il cavallo, è il debitore pignoratizio. Tuttavia, nell'ambito del contratto, in realtà, il debitore è il creditore e, nell'ambito del contratto di pegno, il creditore pignoratizio è il debitore. Nel senso che le obbligazioni sorgono solo a carico, inizialmente, del creditore pignoratizio, che è l'obbligazione quella di conservare il cavallo e ridarlo poi al debitore, perché è a garanzia di un altro credito. Però se quel credito viene soddisfatto con l'adempimento, nei fatti, le conseguenze si riflettono, appunto, sul contratto di pegno e dunque anche, appunto, sulla titolarità del diritto reale, è perché il creditore pignoratizio smette di possedere la cosa ed è obbligato a restituirla. Quindi l'obbligazione sorge a carico del creditore pignoratizio, che è creditore nell'obbligazione che giustifica il contratto di pegno, ma non è il creditore del contratto di pegno, cioè in quel caso è debitore, appunto, rispetto alle obbligazioni che sorgono inizialmente solo al suo carico. Poi, però, diciamo che è un contratto che viene definito bilaterale e imperfetto, perché comunque anche se l'obbligazione inizialmente sorgono a carico del creditore pignoratizio, non è detto che il creditore pignoratizio non debba affrontare delle spese per la conservazione della cosa e quelle potranno essere risarcite invece dal debitore pignoratizio. E quindi questo basta, appunto, a fare del contratto di pegno un contratto bilaterale imperfetto e quindi questo cosa significa, sul piano della tutela, che in pratica, chiaramente, se l'obbligazione viene adempiuta, il creditore deve restituire la cosa. Se non lo fa, il debitore pignoratizio, pertanto che era debitore anche nell'obbligazione principale, però questa obbligazione è stata adempiuta, essendo invece creditore nell'obbligazione relativa al contratto di pegno, in pratica ha la possibilità di, diciamo, un'azione pignoratizia, pignoratizia, diretta. Diciamo, è diretta perché lui, nell'ambito del contratto di pegno, il creditore, no? Quindi l'obbligazione viene poi inadempiuta dal creditore, pignoratizio, se non riconsegna il cavallo, una volta che l'obbligazione principale invece è stata adempiuta dal debitore e pertanto, comunque, se invece anche il creditore istituisse il cavallo, ma volesse invece ricevere le spese dal debitore pignoratizio che ha sostenuto, invece per il creditore pignoratizio è prevista, appunto, la cosiddetta azione pignoratizia contraria. Generalmente, appunto, l'azione diretta è concessa al creditore e l'azione contraria è concessa al debitore per il recupero delle spese, ad esempio, vedi deposito. Però, in questo caso, siccome lo stesso contratto reale si basa comunque su un altro diritto di credito che giustifica lo stesso contratto di pegno, in pratica la denominazione rimane quella tipica dell'obbligazione principale e quindi, in pratica, i ruoli sono invertiti e per questa creazione diretta invece è consentita al debitore pignoratizio e viceversa quella contraria al creditore pignoratizio. Comunque, diciamo, con riguardo al contratto di pegno, direi che va bene così. Ce ne sono delle cose sul manuale che non ho letto, probabilmente non è importante, però purtroppo non ho proprio... Quindi, il pegno si estingue un premento anche della cosa per confusione, anche in base a quanto si è fin qui detto, con l'esercizio di use of this training, ho visto tante cose che però non conviene adesso studiare, perché manca... cioè, le due l'esercizio. Quindi adesso passiamo invece fiducia con creditore, con un amico, così ne avevamo già detto, passiamo a... le altre tipologie. Adesso passiamo a trattare tutta la parte sulle obbligazioni e poi sui contratti e anche i negozi giuridici e i fatti illeciti.